Partiamo dal dato delle persone guarite. Oggi registriamo 192 persone guarite in più che porta a 2.941 le persone guarite. Per quanto riguarda le persone attualmente positive registriamo un incremento di 2.989, il numero delle persone positive complessivamente è 26.062. Le persone attualmente in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi è di 11.108 e le persone che sono in terapia intensiva 2.060, sempre il 10% del totale. Questa sera registriamo purtroppo ancora 345 deceduti per un totale di decessi di 2.503. Oggi è proseguita l'attività di alleggerimento degli ospedali della Lombardia ad opera della centrale remota di soccorso sanitario, la CROSS, il numero dei pazienti complessivamente evacuati dalla Lombardia e distribuiti sugli ospedali delle altre regioni è di 50 con un numero di 3 in più rispetto a di ieri. A questo punto passerei la parola al Professore Magrini che è qui accanto a me. Prego Professore. Buonasera, vi ringrazio di questa opportunità come Direttore Generale di AIFA. Volevo comunicare alcune decisioni prese negli ultimi giorni che mirano a accelerare e semplificare l'accesso ai farmaci sperimentali e in generale a tutte le terapie disponibili per combattere il coronavirus. Uscirà a breve il Decreto Cura Italia nel quale saranno chiaramente espresse alcune volontà di centralizzazione dei percorsi di approvazione degli studi. AIFA avrà maggiore autorità nella sua commissione tecnica scientifica per decidere di tutte le sperimentazioni e le proposte di sperimentazioni che arriveranno, che sono arrivate e che arriveranno nei prossimi giorni per poi trasmettere alla commissione tecnica scientifica presso la protezione civile e gli studi che saranno approvati. E' importante per accelerare dire anche che sarà contenuta una norma di semplificazione dell'emissione dei pareri dei comitati etici avendo un solo comitato etico nazionale per esprimere tale parere presso l'ospedale Spallanzani. Giovedì scorso abbiamo approvato la prima sperimentazione clinica con un nuovo antivirale. I giornali gli hanno dato notizia che è Remdesivir con due studi sperimentali, cioè randomizzati e comparativi e anche un uso compassionevole del farmaco. Questo protocollo è già attivo. Oggi annunciamo, c'era molta attesa perché i giornali hanno parlato molto anche in termini di forse eccessiva generazione di alte aspettative su questo farmaco come un farmaco già studiato. Il farmaco è il Tocilizumab che è un farmaco già approvato per la tritereumatoide su cui ci sono dati preliminari promettenti. Si è impostato un ampio studio di fase 2 per valutare l'efficacia e la sicurezza su 330 pazienti. Lo studio partirà giovedì prossimo e ha lo scopo di rapidamente valutare il possibile impatto del farmaco. Associato a questo si è decisa una centralizzazione e raccolta dati di tutti i pazienti trattati, sia già precedentemente trattati, sia quelli trattati per usi compassionevoli o allargati. Questo consentirà in poche settimane di avere un dato più chiaro sulla possibile entità del beneficio e anche la quantificazione del beneficio che è ciò interessa maggiormente. Sono arrivati anche altri protocolli di studi sperimentali, interessanti saranno valutati già uno giovedì prossimo per nuovi trattamenti o trattamenti esistenti anche di farmaci innovativi e importanti per vedere l'impatto in questa condizione. Inoltre stiamo valutando anche la proposta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di uno studio comparativo che potrebbe anche questo trovare spazio nelle prossime settimane.